I danni di Allegri, ancora questo terremoto, questo maremoto di quest'uomo, li conteremo per anni, per anni conteremo i danni di questo assassino calcistico, per anni di tutti i colui. Il limite offre la palla, gol, Andoye che chiude l'azione, Perini, giù con il pallone. E lui sta facendo fatica girando palla ad arrivarci, dentro Bologna con queste trame. Attenzione, Sixé, altro pallone offerto con Ferguson, che lavoro e stavolta non sbaglia Bologna, è in vantaggio, la formazione di Tiago Motta riapre la sua contabilità, Ferguson, 0-1. Sembrava che ha perso il tempo nel primo controllo, invece ha avuto la possibilità di aggiustarsela sul suo piede forte, davanti a Perini trova l'angolo giusto. Ancora Bologna, Orsolini, no Luke, per Ferguson, che va ad aprire su Doje, che restituisce in mezzo, Sixé, palleggio complesso, Sixé, cerca un compagno, lo trova, altra botta! Ferguson, flerta con il raddoppio. Chiesa. Alessandro, alza, per il colpo di testa, sponda Vlaovic! Ancora Vlaovic! Uno a uno! Tra i davanti. Va a vederlo. Fuori gioco. A livello di regolamento è fuori gioco netto, perché davanti è una traiettoria. Locatelli. We are. Costruisce la conclusione, Bola Skorupski, a rimbalzo! Sono arrivati in due, Vlaovic e soprattutto Bremer. Fuori. Ferguson, movimento di Sixé, servito, posizione giudicata regolare. Doje, dopo la parata di Perini. È tutto buono per l'arbitro. Quindi Giulio si fa prendere in anticipo. La palla non la prende. Sembra andare sul luogo. Mario. Ci prova! Alto! Può andare l'ingiugno. Il cross per Vlaovic. Che giura di testa! E si riprende il gol del pareggio. Stavolta è tutto buono. Vlaovic. Uno a uno. Il ingiugno con il sinistro mette una palla fantastica. È uno scandalo. È una vergogna. È uno schifo. Questo. Devo fare qualcosa, ma pure tu devi fare qualcosa. Cosa faccio? Fatti i gazzettori, fatti il dito.